Jack Bonora nella sua postazione davanti alla libreria. Buonasera Jack, come va? Molto bene, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Bene, molti sono rimasti un po' colpiti dalla perentorietà con cui Furio Zara, che ha preceduto te nel collegamento, è stato piuttosto netto nel dire che secondo lui mai il Bologna farà questo famoso salto e che è impossibile arrivare tra le 6-7 sorelle del nuovo campionato e c'è chi ha apprezzato il fatto che sia stato così diretto e sincero e chi invece magari mette in dubbio che davvero si possa essere già così sicuri di questo traguardo. Che dici Jack? Beh, dico intanto che Furio Zara è un collega bravissimo e di conseguenza lo ascolto sempre con immenso piacere. La sua considerazione è legittima perché arrivare nelle prime 6 significa proporre un esborso di denaro veramente pesantissimo. Ci sono dei valori importanti in termini di piazze e di potenzialità economiche. Voglio pensare che lavorando molto bene si possa, quello sì, arrivare nel tempo ai livelli dell'Atalanta. Se poi mi si dice che la Roma, la Lazio, la Juve, il Milan e l'Inter sono a un livello superiore, lo posso accettare. possa accettare meno che il Bologna non sia nel tempo a un livello pari a quello della Fiorentina. Il bacino d'utenza è simile e quello magari di un'Atalanta che ha un bacino di utenza inferiore, però innegabilmente negli anni ha lavorato molto molto bene. Quindi diamoci degli obiettivi che sono chiari secondo me, di stare a ridosso assolutamente di quelle squadre che sono a un passo dalle sorelle dello sport. Fai fatica a dire che sono sei o sette, una volta erano le sette sorelle. Se noi siamo dietro a queste realtà e ce la giochiamo stabilmente con Fiorentina e Atalanta, per me abbiamo già fatto un passo importante perché ricordiamoci che noi siamo saliti 9-8 anni fa dalla Serie B alla Serie A, abbiamo lottato per salvarci. Adesso la salvezza è un tema che quasi non interessa più per come si mettono le ultime stagioni. Bene, il passo in avanti è questo. È un passaggio graduale, ma per quanto mi riguarda assolutamente accettabile. Poi tutti vorremmo vedere il Bologna che gioca per lo scudetto. Mi dispiace, non voglio dire non accade, non si può, perché ci vogliono probabilmente molti più soldi di quelli che comunque molto generosamente si appunto mette sul piatto. Jack, parlo di basket perché abbiamo solo 8-9 minuti prima della chiusura e con te mi interessava capire cosa deve fare la Virtus domani sera o non deve fare per tornare in partita. Perché gara 1 è stata una vittoria più netta, gara 2 è stata sinceramente molto equilibrata fino all'ultimo, poi un po' di liberi sbagliati, quel famoso time out di Scariolo molto contestato. Che cosa non deve accadere domani? Come fa la Virtus a ribaltare i pronostici? Banalmente, vista gara 1, vi direi deve giocare come nel primo tempo per anche i secondi 20 minuti. Vista gara 2 deve mettere quei liberi che ha sbagliato nella seconda partita. Non deve farsi il retire dalle condotte arbitrali, non deve darsi giustificazioni, deve riuscire a giocare la sua migliore pallacanestro sostenuta dal pubblico. Su 7 partite io credo che il fattore campo abbia un peso relativo rispetto a una singola partita o anche a 3. Ma rimane comunque il fatto che se la Virtus avesse giocato le due partite in casa, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Lo vedremo domani sera se veramente il fattore campo inciderà. Io credo che la Virtus abbia tutte le armi per portarsi sul 2-2. L'importante è nessuna giustificazione. Se cominciamo a dire il potere di Messina e gli arbitri che ce l'hanno con noi, dimentichiamoci tutto. Mettiamo i tiri liberi che contano, giochiamo per 40 minuti e poi dopo andiamo a discutere. Perché se no gli arbitri potranno dire guardate che i liberi non li abbiamo mica sbagliati noi, li hanno sbagliati i Schengeliaket. Vaglia da retorto. E poi da casa ti chiedono, insomma Milano come pubblico e servizio d'ordine è stato vergognoso, ma non credi che un professionista abituato a campi anche peggiori non debba reagire così e si riferisce ovviamente a Teodosic. Rispondo in maniera chiara. Non voglio accomunare il pubblico di Milano praticamente sempre correttissimo per quanto riguarda invece un singolo comportamento di un soggetto, per cui la generalizzazione non mi interessa. Vanno a vedere la partita in 10 mila, uno ha fatto una cretinata che pagherà pesantemente perché si prenderà il suo doveroso daspo. Quindi primo punto. Secondo punto. Il servizio di sicurezza sicuramente ha fallito. Questo è un dato di fatto. Quando i giocatori escono dalla Segafredo Arena sono accompagnati dai responsabili della security e anche noi giornalisti veniamo spostati leggermente. Quindi vi sono sicuramente determinate tutele. Il comportamento del tifoso è stato assolutamente inqualificabile. Secondo me la risposta di Teodosic è stata una risposta forte, molto forte. È andata bene a Milano che hanno squalificato il campo per una giornata commutata in multa ed è andata molto bene sia a Teodosic che a Dacket una giornata commutata in multa perché la loro risposta è stata forte. Però vedi Sabri, in un mondo che giustamente lotta contro il sessismo, contro il razzismo, non ci si può permettere di dire a uno zingaro DM perché può succedere che ogni tanto questo reagisca. A livello sportivo e legale è assolutamente inaccettabile. È una risposta che non deve proporre. A livello umano ve lo dico con grande onestà. Se ogni tanto uno di quelli che dice a uno zingaro DM si pigliasse anche un bel cazzotto, io sarei molto contento perché è quella stessa persona che non lo fa per la strada, non lo fa in corso como. Te lo fa ovviamente al parasporto in mezzo agli altri. Dopodiché la reazione di Teodosic, a ragione dell'ascoltatore, sportivamente è stata eccessiva. Ma abbiamo voglia di lottare contro il razzismo? Beh ogni tanto anche un occhio nero potrebbe fare bene e non perché il colore in quanto è tessuto epiteliale, ma perché diventa nero, perché ti sei preso una noce da uno che hai offeso con un insulto razzista. Jack abbiamo tre minuti, ti volevo sottoporre un po' di temi, ti chiedo di fare un po' di botte e risposte. Intanto chiedono a sto punto Scariolo rimane, visto che Toronto ha avuto altre idee. Non ne sono convinto. Potrebbero anche fare altri sondaggi, il rapporto forse in qualche modo si è inclinato, magari non va a Toronto, ma anche delle altre ghiotte offerte. Aggiungo che Trinchieri ha salutato il Bayer di Monaco ed era uno di quei nomi molto interessanti per la Virtus, quindi non escludete un arrivo di Trinchieri, anche se si parla tanto di Pozzecco che ha l'anima fortitudo e i tifosi non so quanto gradirebbero. Non diamo per scontata la permanenza di Scariolo. Ok, e poi Stefano da Castenaso ti chiede se secondo te la Segafredo sta lentamente dando segnali di disinvestimento? Non credo. Gran Canaria ha appena rinunciato alla prossima Eurolega, quindi praticamente certa la presenza della Vunera nella massima competizione europea. Non si può pensare di partecipare a una manifestazione del genere senza investire tanti soldi. Credo che Zanetti lo farà. È ovvio che prima ha avuto degli scalini molto ampi da superare, quindi gli investimenti da un anno all'altro sono stati veramente corposi. Adesso la forbice si è ristretta, gli scalini si sono ristretti e di conseguenza investendo bene, ma non in maniera sorprendente, si può comunque salire di livello. Credo che Zanetti ci sia ancora. Magari qualche delusione la può aver avuta, ma questo non credo che lo faccia assolutamente desistere. Abbiamo un minuto e ti chiedo in quest'ultimo minuto a che punto siamo con la cessione della fortitudo e come cambierà l'assetto societario con l'accordata di Stefano Tedeschi. Mi dicono che la cosa è praticamente fatta, che l'accordata di Gentilini è rimasta indietro. Stefano Tedeschi, che ribadisco è persona serissima, l'ho detto ieri a Sport Club, potrebbe inserire personaggi come Giorgio Bresciani. Si parla di Dalibor Bagaric. Io distinguerei le bandiere da sventolare da quelli che mettono veramente i soldi. Fermo restando che la famiglia Tedeschi ha soldi per comprare la fortitudo. Penso che garantirà una a due assolutamente tranquilla per poi provare a fare un salto in Serie A 1, ma riproponendo un clima diverso rispetto a quello che si è vissuto negli ultimi tempi con Muratori e con Pavani in tempi più recenti. Quindi cambieranno alcune cose. Vedremo quante. Prima si compra la società. La certezza è che se di Zanetti, abbiamo detto, non sono ricchi stupidi, bene, nemmeno la famiglia Tedeschi è composta da ricchi stupidi. Penso che spenderanno bene per avere una Serie A 2 equilibrata, però con delle facce nuove, che è quello che il pubblico vuole. Jack, grazie anche per la rapidità e la sintesi con cui hai risposto a tutti i nostri quesiti. Ci risentiamo e ci rivediamo ovviamente nei prossimi giorni, anche qui a Sport Today. Grazie Jack, buona serata a te. Chiudevo rispondendo solo a questo tifoso che ha mandato veramente migliaia di mesi.